Ciao a tutti, sono Nese, sono a casa di amici, quindi non vi preoccupate se ci sono voci, rumori fuori campo e sono con il mio ragazzo... No, non è vero Magari sento un urgente, non lo so Sono con il mio ragazzo perché dobbiamo aprire insieme due blind box del Signore degli Anelli dei fan con Mystery Minis e uno è suo, quindi giustamente uno lo apre lui Allora vi faccio vedere velocemente la scatola e poi li apriamo Allora innanzitutto li ho presi su Amazon a circa 7 euro a scatola compresa a spedizione Sì, una scatola del genere Quindi 14 in totale Sì, infatti su Ebay costavano un po' di più Allora vi faccio vedere, aspettate valgo la pellicola così si vede meglio Allora, eccole Vai, facci vedere Ti dico i personaggi? Ti dico i personaggi Sam, Gandalf, Aragorn, Legolas, Boromir, Merio Pipino Sì, credo siamo in ordine Merio e Pipino Sarman, Gollum, Arwen, Frodo, comunissimo Frodo Galadriel, Gimli, il Nazgul e Sauron E i più comuni sono gli Hobbit I più comuni ci sono loro due, uno su sei Poi ci sono parecchi, uno su dodici Tipo Aragorn e Gandalf Qualcuno uno su ventiquattro I più rari sono Nascull, Arwen e Sauron A me piacerebbe Sauron Eh sì A te? Eh pure a me E Nascull E Gimli Allora tolgo anche qua la pellicola Scusate ancora ma sono raffreddata Vai apri No, è imperdonabile Scelgo questo Ok Sauron, Sauron, Sauron Certo le probabilità di trovare due Sauron sono un po' minime Quindi se troviamo un Sauron è tuo Meno pesante quindi sembrano diversi Magari è vuoto Sì, spero di no Ok, io non sono per il tastare Ce l'ho qua, lo apro direttamente Eh davvero, io invece faccio Il tastaggio E abbiamo E abbiamo Boromir Uh bello Bello Faccelo vedere Che bello Mi piace tanto? Vai descrivilo pure Eh non so Eh Boromir ha una spada Lo scudo famoso di Boromir L'hanno preso abbastanza bene di faccia devo dire Ha il corno di Gondor E bello E poi Boromir è un bel personaggio Con tutto il suo Con tutta la sua tragicità Bello Vai Bene, allora io apro il mio Cioè l'altro insomma Beh io tenere Boromir mi sta bene Vediamo chi è Vediamo chi è Ah diteci nei commenti Chi vi sarebbe piaciuto Questo è piccolino È un hobbit Sicuro Sicuramente Ma magari ne prenderò altri In futuro Non lo so Sì E Uh abbiamo Ecco Mary Credo Mary è Pipino No mi sa che è Pipino Allora è lui Secondo me è Pipino Sì Sì credo sia Pipino Carino E ha anche la foglia Sì le foglie Quelle che gli dà Sì Anche lui ce l'ha Che carino Bello È piccolo piccolo Un po' quanto è più piccolo Quindi era uno su 24 E Boromir era uno su 12 Eccoli Sì è più piccolino Avevi ragione Io non la sentivo sta cosa Che uno era più leggero Ma c'aveva ragione Carino Poi la spada è fatta pure bene Mi piace la foglia il dettaglio E per una volta le spade non sono storte E gli hanno fatto anche i peli sui piedi Carino Bene Oh le spade non sono storte No no infatti è vero Sono molto carini Diteci nei commenti se vi piacciono E chi avreste voluto trovare voi E niente più o meno questo è tutto Se ne prenderò altre le vedrete sul canale Ci vediamo in un prossimo video Mettete like Commentate Iscrivetevi al mio canale Se vi va E iscrivetevi anche al canale Disporreveng92 Ve lo lascio in descrizione Ma sì ma sì E noi ci vediamo in un prossimo video Un bacione E alla prossima Ciao Ciao